Ti prego fai uno dei tuoi capolavori che si illumina nel buio dei cavalieri dello zodiaco, te lo prenderai subito. Ok. Questo è uno di quegli animi che hanno accompagnato la mia prima parte d'infanzia e non potevo non accogliere questa richiesta. I miei genitori non volevano che lo guardassi perché dicevano che era troppo violento, ma tanto io andavo di nascosto alla mia nonna e me lo guardavo tutto. Questo quadro non è solo un quadro, ma rappresenta senz'altro un pezzo di vita di almeno due o tre generazioni, di cui la mia è stata l'ultima. Per quadri così importanti vi c'è la regola del Limited Edition, il che significa che solo le prime dieci persone che lo desidereranno potranno acquistarlo. La serie appunto limitata ha dieci pezzi, numerati e con certificato di autenticità. Ovviamente l'ho trovato sul mio shop nella sezione Limited Edition, il link è sempre in bio. E tu, che segno sei? Ma intanto, guardate qua. Oh, guardate qua, Alexa spegni tutto. Non pensavo che sarebbe venuto così figo. Alexa, accendi tutto. Come al solito l'ho trovato sul mio shop, solo dieci disponibili in LinkedIn. Alexa, spegni tutto.